Il 1966 Sono fogli completi, eh? Il 1966 è tutto completo. Grazie. Questa è una serie completa, questi quattro qua sono, questi quattro quattro è una serie completa. Tutto in folie. Grazie. Questa è una serie di due, sempre in foglie. Queste invece, queste due foglie invece sono uguali. Sono due foglie uguali, questi. Grazie. Questa è il 1967. Questa è una serie di due valori. Questa è Europa, questo rosa e questo azzurro è Europa. Questa è una serie da quattro. Uno, due, tre e quattro. Invece queste sono la serie del ciclismo. Questo è molto interessante, questa serie. Eccolo qua. Unita 40. Quest'altra da 90. Questa qui da 500. Eccola qui. Eccola qui. Questa. 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 Grazie. Qui stiamo sempre al 67, al 1967. Nel 1967 mancano un poco di francopoli, dopo vi faccio vedere quali che mancano. Poi magari lo vedete anche sul catalogo volendo, comunque ve lo faccio vedere lo stesso adesso. Ecco qua quello che manca, ma mancherebbero questi qua. Questi, questo qua, questo. Questi due. Eccoli qua. E poi è completa. Lo faccio rivedere così. Sul sassone questo, come vedete è il sassone questo. Ecco qua. E anche quest'altro. L'ho dimenticato. E questo qua. Del 67 non so se il pirandello l'ho messo. Comunque lo metto adesso. Sempre del 67 questi eh. Grande pirandello. Grazie artista. Invece del 68 ho solo questi. Nel 1968 ho solo questi. Che state vedendo adesso eh. Questa è la serie completa. che sono due fogli di una serie completa. Anche questa serie completa. Questa è la serie completa. Questo è il canaletto invece. Canaletto. Sono tre fogli. Alcuni un po' sbirciati. Non sbirciati. E' come se si stessero aprendo. Capito? Vedi? Vedi qua. Vedi un po'. Vedi un po' sbirciati. 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 invece del 69 c'è uno solo che sarebbe questo qua guardate eccolo qui al giornale del franco bollo guardate che bello questo è del 69 ok e oggi ho finito